Domenica e sabato prossimi un altro weekend a tutto olio e a tutte manifestazioni. Sì, si replica, c'è il secondo weekend di Cartoceto Doppli Festival, la 41esima mostra al mercato dell'olio e dell'oliva. Come dicevi si apre sabato 11 novembre con lo spettacolo del Teatro del Triunfo di Ragazza alle 15.45 che ha ottenuto un grandissimo successo sabato scorso e verrà replicato appunto sabato prossimo e nel tardo pomeriggio di sabato 11 novembre un evento molto atteso dalla cittadinanza. La presentazione appunto della cittadinanza delle tre antiche opere d'arte religiose restaurate nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo che verranno precedute l'inaugurazione dalla celebrazione della Santa Messa cocelebrata dai nostri due parici. Questa è diciamo una grande novità. Ecco, bisogna ricordare anche che quest'anno chi viene da voi gode di uno spettacolo speciale, la piazza completamente aperta, ristrutturata in tutto il suo splendore. Sì, finalmente quest'anno abbiamo aperto completamente la piazza dove come storicamente avviene si celebra il mercatino dei produttori, quest'anno sono tantissimi. È stato più volte detto che questa è un'annata meravigliosa dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Quindi il mercatino dei produttori in piazza e poi tutte le grandi manifestazioni artistiche da Greta Panettieri al Teatro del Trionfo alle 18.30 di domenica 12 novembre, dai concerti gest al balcone con Massimo Morganti fino ad arrivare la Pifanghi, una mercing band di ben 15 elementi. Quindi insomma non ci sarà da annoiarsi. Quindi rivolgiamo tutti quanti un invito, venite ad acquistare l'olio ma a vivere anche Cartoceto. Sicuramente, per tutte le altre informazioni vi invito a visitare la pagina Facebook di Cartoceto Turismo dove appunto troverete tutto il programma di questi due giorni, sabato e domenica prossima.